La famiglia è un amore per sempre che salverà il mondo. Lo ha ripetuto anche oggi il presidente della CEI, il Cardinale Gualtiero Bassetti da Dublino, dove è in corso l'incontro mondiale delle famiglie. Una riflessione, quella del Cardinale, che è partita dai tre verbi contenuti nell'esortazione apostolica Moris Letizia di Papa Francesco, ossia accompagnare, discernere ed integrare. Sentiamo. La famiglia è un amore per sempre che salverà il mondo. In questi anni lo ha ripetuto più volte il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e più di recente lo ha fatto durante il Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia. Oggi lo ribadisce da Dublino nel corso dell'incontro mondiale delle famiglie in corso fino al prossimo 26 agosto. Fondamentale, secondo il porporato, valorizzare questo amore, ovvero la formidabile testimonianza di fede che la famiglia è in grado di dare al mondo contemporaneo, evidenziando tutti i talenti che essa possiede, ma senza nascondere le ferite che la affliggono. Non dobbiamo coprirci dietro ad un ideale di famiglia in astratto e il monito del presidente della CEI, ma dobbiamo confrontarci con quello che è realmente, e cioè con la cellula fondante, bellissima e fragile, di un corpo sociale sempre più sfibrato e caratterizzato, da un lato da una cultura individualista, a tratti esasperata, e dall'altro lato da una cultura dello scarto che emargina tutto ciò che non è utile. La strada indicata dall'esortazione apostolica Moris Letizia di Papa Francesco è la Via Caritatis, che richiede di assumere da parte di tutti lo sguardo del samaritano per curare le ferite all'interno della famiglia e tra le famiglie, dice il cardinale. Secondo il porporato, anche nella pastorale familiare occorre sviluppare l'arte del rammendo, ossia l'arte di ricucire le relazioni umane. Consolidare i matrimoni per prevenirne le rotture, come chiede l'esortazione apostolica di Bergoglio. Per questo Chiosa Bassetti, una delle odierne sfide pastorali più importanti, consiste nell'accompagnare chi si avvia alle nozze a gustare la bontà del vino nuovo di Cana di Galilea. Ma ciò richiede un cambio di rotta e tempo cioè di investire le migliori energie per formare presbiteri e coniugi che devono essere i compagni di viaggio dei fidanzati e di incoraggiarli a superare le crisi che verranno. I tre verbi della Moris e Letizia, accompagnare, discernere ed integrare, delineano quindi i tratti di un cammino dove la comunità cristiana esprime tutto il dinamismo del Vangelo.